E su, ragazzi, non mi vedete niente di strano a me stasera, no, eh? San Piondalo! Lo scegli, Vicentino? Chi mi lo va? E tu, e tu, e tu me pare una cornacchia, invece. A cavallo, zaghetta, basta! E la secolo, che male! Fincassi, se trova il petroio! Mi arrivate qualcuno, per me? No, manco posto, è arrivato. No. Non facciamo divertire se vi è con voi a ballare un'era, sai? Guarda! Ma, signor! Ma, 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 quando? Ma, signor! Bella che ha. Sì. Quante luci. Non so, mi sembra che sta al Vaticano. Ti offro una bella pizza. Ma, Fabi, i soldi ce l'hai? Ma che fanno? Tutte le peste di vetano. È l'Ussangela. Signorina, come? Tutti gli americani fare i panni a Pantana. Questo lo ha visto al cinematografo. Benvate, raggio, va in faudra a Pantana! Grazie a tutti